A parlare, a parlare, e mi rischiette parecate, se non parlate solo, non mi canto e non mi sono, e se non parlate pure il cucino di un paroloso figlio, eh? Ah, ah, così volete, non mi sono salvi, è il mio volentario, eh? Così, così, eh, questo! Grazie a tutti.